Benvenuti al corso d'italiano B1. Dajahou, huanin lai dao itali yu bi jibe jiao chen. Io sono Suzy. Lezione 15 Quanzità e zu chi ho città quanzità e zu. Il pronome relativo chi e gli altri pronomi relativi. Ciao e bentornati a tutti voi. Oggi parliamo di nuovo di pronomi relativi, ma non quelli che abbiamo già spiegato nelle lezioni precedenti, ma di altri. Zintien omlai zizi chiesi quanzità e zu. Dantran,不是 lao-tiao-song-tan de, dantran,不是 lao-tiao-song-tan de, fusi quocchi所讲的内容. Omlai zizi chiesi città quanzità e zu. E giushi, suam-tun quanzità e zu pronomi relativi d'opi. Có, ho, hônvel quanzità e zu. Pronomi relativi misti. Noma,这个 eu se som-tun, eu se quon-ha ha de quanxii d'opi. Tamo, studio se qui pire città e zu. cioè talmente gli se ose un pronome dimostrativo e un pronome relativo visto che è un pronome indefinito e un pronome relativo Ci sono state personale i se situando un pronome indicativo chi無論做主语 還是做兵语 只能用於指代人或動物 不能指代物體 儘管它沒有 陰陽單附数的變化 但它可以指代 第三人稱單數 有時也有第三人稱 附數的概念 per esempio chi ha spiegato la lezione è du incompetente 那个讲課的人 是個不 승人者 Chi non lavora, non mangia, se vuoi lavorare, non finire, non jedi farda. Chi vuole freqüentar il corso di italiano, deve iscrivarsi entro domani. Chi vuole freqüentar il corso di italiano, deve iscrivarsi entro domani. I cossi libih interventi. O 주ario, ma direzione dai luiz. 不管我们在翻译的时候把它翻成谁还是那个人 都是第三人称 相当于la persona che 或者le persone che 这时也可以被指示代词加上关系代词的形式所替代 我们来看一下 这时指示的都是第三人称阳性单数 所代替的时候呢 指代的都是第三人称阴性单数 所代替的时候呢 指代的都是第三人称阳性复述 或者第三人称阴阳混合时候的复述 所替换的时候呢 指代的都是第三人称阴性复述 这里我们看一下出现的 colui colui呢 为指示代词 指代第三人称阳性单数 colei 指示代词 指代第三人称阴性单数 coloro 指示代词 指代第三人称复述 不管 colui colei coloro 一般呢 都要和关系代词 che放在一起使用 那么按照这种情况呢 第一句话 qui ha spiegato la lezione e un incompetente 可以变为 quello che ha spiegato la lezione e un incompetente e un incompetente colui che ha spiegato la lezione e un incompetente colui il quale ha spiegato la lezione e un incompetente la persona la persona che ha spiegato la lezione e un incompetente 第二句话 Ki non lavora non mangia ce ho te kino ekipion we quello che non lavora non mangia quella che non lavora non mangia colui che non lavora non mangia con lei che non lavora non mangia colui il quale non lavora non mangia con lei la quale non lavora non mangia la persona che non lavora non mangia 既然这里理解为 谁不工作,不吃饭 那么我们呢 其实也可以把 谁理解成一个 付属的概念 谁不工作,不吃饭 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 哪个人要评服 哪个人的 monte 哪个人要评服 哪个人要评服 那个人要评服 哪个人要评服 他人要评服 Il corso d'italiano devono iscriversi entro domani. Coloro i quali vogliono frequentare il corso d'italiano devono iscriversi entro domani. Coloro le quali vogliono frequentare il corso d'italiano devono iscriversi entro domani. Le persone che vogliono frequentare il corso d'italiano devono iscriversi entro domani. Il film è aperto fino alle 13 per chi vuole informazioni. La mia macchina la presto solamente a chi sa guidare bene. Votrò che c'è che c'è chi sa ascoltare. Io c'è splitso sulla finestra che. Il film è direttanti, C'è chi sa ascoltare. Il film è diverso ??? Per la persona che per le persone che per quello che per quella che per quelli che per quelle che per quelle che. per colui che per colore che per colore che per colui il quale per colore la quale per colore i quali per colore le quali per colore il quale a colore la quale a colore i quali a colore le quali 第三句中的 con qui 和什么什么的人 相当于 con la persona che con le persone che con quello che con quella che con quelli che con quelle che con colui che con colore che con colore che con colui il quale con colore la quale con colore i quali con colore le quali 以上 non ho ancora trovato che riesce a battermi ho还没找到 能打败我的人 battere se我动辞 战胜 打败 以上三个例子中的 chi 其实都指 qualcuno che 某人 e就是 不定带 qualcuno 加上 关系带 che se c'è se c'è qualcuno che pensa io sia stupido vada via c'è ancora qualcuno che non vuole provare questo fantastico prodotto non ho ancora trovato qualcuno che riesce a battermi 下面呢 我们来看 quanto quanto 单数形式呢 起到中心代词的作用 不可写成 quanta 可以被 quello che 或者 choque 所替代 我们来看一下 这个例子 quanto dici e giusto 你所说的是正确的 当然 也可以写成 quello che dici e giusto 或者 ciò che dici e giusto quansi只是带子 quanti quante 分别只带 tutti quelli che tutte quelle che 这里 我们取个例子 quanti desiderano maggiori informazioni possono visitare il nostro sito 或者 quante desiderano maggiori informazioni possono visitare il nostro sito chiunque chiunque呢 无 此型 变化 包含 un pronome indefinito e un pronome relativo 双重含意 解释为 qualunque persona che 无论 谁 比如 chiunque abbia parlato così bene avrà il mio voto 无论 谁 说的 那么好 都会 得到 我的 选票 chiunque qualunque persona che la 替 ti ho chiunque 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 persona che abbia parlato così bene avrà il mio voto 最后一个语法点 我们来看一下 il ke 当关系代词 ke 用于定贯词 il 之后呢 变成 il ke 的形式时呢 既不止人 也不止物 而是作为一个中心关系代词 只带前文或上一句中 所涉及的事情 这是 il ke 相当于 koza ke 或者 hecho 这里呢 我们来看 几句话 ieri mi ha telefonado Carla il ke mi ha fatto molto piacere 昨天 Carla 打电话 给我 这让 我很 欣慰 la tua amiga mi ha mandato una cartolina il ke mi ha rezo felice 你的 朋友 给我 寄了 一张 明信 片 这是 我很 高 幸 我 sabuto que morto il mio scrittore preferito il ke mi ha fatto piacere 我得知 我喜欢的 作家 去世 的消息 这是 我哭了 可以看出 以上三句中的 il ke 指代的都是 前文 所提及的 事情 使人 怎么 怎么样 第一句的 il ke 指代的是 yeri mi ha telefonado Carla 第二句中的 il ke 指代 la tua amiga mi ha mandato una cartolina 第三句 的 il ke 指代 我 sabuto que morto il mio scrittore preferito 这里 大家对 双重 关系 代词 chi cuanto quanti quante chi unque 和 定管词 il 加上 que 的 用法 都了解了吗 那么 课程结束前 我们来了解一下 以 chi 引出的 意大利 言语 proverbi italiani 首先 麻烦 同学们 现在 以下两组 句子 一到六 和 一到 一到 一 中 找出 所表示的 意思 一致的 句子 uno chi fa da se fa per tre due chi trova un amico trova un tesoro tre chi va piano va sano e va lontano quattro chi cerca trova cinque chi tardi arriva male alloggia sei chi dorme non piglia pesci a la persona che arriva tardi trova il posto peggiore b la persona che dorme troppo non ottiene risultati c la persona che trova un amico trova qualcosa di grande valore d la persona che va piano non corre pericoli e quindi arriva lontano e la persona che si preoccupa di cercare alla fine trova ciò che cerca f la persona che fa le cose da sé riesce ad ottenere il risultato di tre persone insieme 大家都 连 出 来了 ma 如果 都 连 对 了 那么 相信 大家 对 一 到 六 中 六句 italy 言语 的 意思 也 都 猜到了 chi fa da se fa per tre e 就是 la persona che fa le cose da se riesce ad ottenere il risultato di tre persone insieme chi trova un amico trova un tesoro la persona che trova un amico trova un qualcosa di grande valore de yo ru de pao si a su de pen yo de gen gui chi va piano va sano e va lontano e gius su la persona che va piano non corre per ricoli e quindi arriva lontano 相当于 我们的 成语 欲数 z bota chi cerca trova bea dal la persona che si preoccupa di cercare alla fine trova ciò che cerca lontano lontano 相当于我们的言语 有智者是金城 想要说的是 la persona che arriva tardi trova il posto peggiore 玩到的人找不到好的位置 其实想表达的 只有接住者才先登 杉杉来吃者 则会措施良机 表明了 也就是告诫我们 早吃的鸟儿才有虫吃 睡得太多 则得不到想要的结果 当然 意大利语中呢 还有很多带有 qui的成语 比如 没有播种哪来的收获 猫身来捉鼠 隐身含义呢 则是 病性难移 ok 今天的课程呢 就到这里了 中文中文字幕子决定被 再见